Vi faccio vedere cosa cucino oggi, come dicevo ho tradito il Lidl, ho tradito il Lidl perché comunque sia il di più, se hai la possibilità di spendere qualche soldo in più devi averla, perché comunque il Lidl costa di più, il di più costa di più, c'è anche scritto nel nome, no? Se hai possibilità di spendere qualcosina in più, hai la comodità che c'è poca gente, è vicino ai servizi, non è in culo della melonia, cioè nel senso è un posto facilmente accessibile di solito, di trovata sono piccoli supermercati, meno dispersivi. Gnocchi di patate con patate fresche, faccio questi oggi ragazzi, poi non so se trovo la panna in casa faccio la penna, ma perché vi fate i cazzi miei? Avete rotti i coglioni, vi fate i cazzi miei, se voi non avete una vita, non avete una vita, non avete una donna, non avete una famiglia, gnocchi di patate fresche, hai capito? Alto maso, to, tomò, hai visto?